Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trapimeteo. Durante la giornata di domenica un minimo depressionario posizionato tra centro-sud Italia e Grecia determinerà ancora qualche pioggia acquazzone al sud. Possiamo notarlo con la prossima grafica dove le precipitazioni ruoteranno attorno a questo centro depressionario tra l'Oionio e la penisola ellenica. Al nord e poi il medio alto versante tirrenico tornerà invece il bel tempo. Nel dettaglio il sole che splenderà al settentrione dopo i recenti nubi fragi ma osservate anche come grampate le regioni centrali vedranno bel tempo. Mentre al sud minimo di bassa pressione con nubi minacciose e occasionali piovaschi o acquazzoni in un contesto di gran variabilità. Ulteriore lieve flessione termica al centro-nord per l'arrivo di una massa d'aria molto fresca direttamente dai Balcani con venti tesi tra est e nord est. Seguite tutti gli aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.